Andrà in onda questa sera alle 21.15 il documentario e la scoperta del Museo Diecesano di Brugnato. Ubicato nel Palazzo Vescovile, il museo ospita una selezione di pregevoli manifatture. Di particolare interesse è la sala che ospita una selezione di argenti provenienti dalla cattedrale adiacente. I criteri espositivi rispondono alla duplice funzione che anticamente aveva posseduto il palazzo, l'essere allo stesso tempo, dimora privata e palazzo di rappresentanza. Il nostro viaggio inizia proprio nel salone di rappresentanza per poi proseguire nelle sale attigue. Protagonisti i simboli del potere pastorale e gli oggetti legati alla liturgia e alla celebrazione della messa. Al pian terreno del museo invece si trova la sezione archeologica. Qui è possibile vedere i basamenti originari del Palazzo Vescovile che ospita il museo. In questa parte del palazzo sono stati rinvenuti numerosi reperti ceramici, non ancora esposti al pubblico perché in fase di studio. Alla regia Davide Morina aiuta regia Morena Primavera, conduce Aurora Razza. La puntata sarà disponibile anche sul canale YouTube di Tele Liguria Sud. Un segmento che unisce l'immagine pubblica a quella privata della Camera.